Sono andato in Egitto per vedere un film in arabo ed è stato incredibile! Vi racconto com'è andata. Sono andato a trovare un caro amico che vive al Cairo e ho vissuto come un vero egiziano per nove giorni. Da appassionato di cinema non potevo rinunciare a questa esperienza. Da quando ero arrivato mi aveva colpito un cartellone e ho deciso di guardarlo. Il cinema assomigliava in tutto e per tutto ad un cinema occidentale, uno di quelli di provincia diciamo. Il biglietto era costato l'equivalente di circa 3 euro. Un addetto ci ha accompagnato al posto. Ero curioso di vedere cosa facevano le persone in sala. Prima del film c'era un po' di cacciara. Ma poi tutti erano educati. Mi ha fatto piacere sentire le persone ridere. Anche qui avevano un intervallo dove le persone si sgranchivano le gambe e compravano qualcosa. È stata una bella esperienza, mi piacerebbe riprovare. Tra l'altro il film era visivamente impeccabile e aveva davvero un ottimo ritmo. Alcune gag le ho capite pure io, talmente era recitato bene. E se devo essere sincero, anche i trailer dei film in programmazione non sembravano male. Devo recuperarmi un po' di film egiziani. E tu sei mai andato al cinema all'estero? Com'è stato? Raccontaci l'esperienza.